Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vediamo insieme le opere di Francesco Petrarca. Prima però vi chiedo di lasciarmi un like qui sotto, iscrivervi al canale e seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diego di Charlotte. Oggi parleremo delle opere di Francesco Petrarca, ma abbiamo già dedicato una video-lezione alla sua biografia che vi lascio qui. In questa lezione parleremo di tutte le sue opere fuorché del canzoniere, perché al canzoniere dedicheremo una lezione a parte. Dividerò comunque il video sulla base del minutaggio, mettendo il titolo con le varie opere di cui andremo a parlare. Intanto sappiate che Petrarca ci lascia per la maggior parte delle opere in latino. Le opere di Petrarca in volgare sono I trionfi e Il canzoniere. I trionfi è un poema in volgare incompiuto. Petrarca ci lavora dal 1351 a poco prima della sua morte. Sappiamo che muore nel 1374 ad Arqua Petrarca. È diviso in sei parti e il metro che adotta Petrarca è la terzina dantesca. Vi ricordo che abbiamo varie lezioni su Dante nella playlist, vi lascio qui la sua biografia e poi se volete ne trovate altre. Dicevamo che Petrarca scrive I trionfi e di fatto si rifà proprio alla Commedia di Dante e anche a un'opera del Boccaccio di cui parleremo prossimamente dell'amorosa visione. Il poeta il 6 aprile data importantissima perché il 6 aprile 1327 Petrarca incontra Laura e il 6 aprile 1348 dice che Laura muore di peste. Bene il 6 aprile mentre dorme in chiusa, abbiamo detto località vicino ad Avignone dove Petrarca si ritira, vede sfilare 6 visioni. Se in Dante il numero magico è il 9 e il 3, qui il numero magico è il 6. 6 aprile, 6 visioni, lo ritroveremo più volte. Queste visioni sono delle strutture allegoriche. Cos'è un'allegoria? Qualcosa che dice qualcos'altro. e in queste allegorie si vede riflessa la visione del poeta. Abbiamo l'amore, la pudicizia, la morte, la fama, il tempo e l'eternità. Il primo trionfo è quello dell'amore. L'amore si presenta al poeta con un seguito di amanti famosi e un poeta rimane colpito da una giovane donna. Quindi segue questo carro e arriva all'isola di Venere. Qui all'isola di Venere troviamo Laura che sconfigge l'amore e lo rinchiude nel tempio della pudicizia. Come vedete la struttura è ascendente. Andiamo dall'amore, rappresentato come una passione comunque sia da chiudere nel tempio della pudicizia e poi arriveremo all'eternità. Quindi il valore massimo. Insieme ad un corteo di vergini, Laura sta proprio tornando in Provenza perché abbiamo detto che Laura è francese, una nomildonna francese, Laura de Noves. Dopo il trionfo dell'amore e della pudicizia abbiamo il trionfo della morte. Sono due capitoli scritti dopo la morte di Laura. Il 6 aprile 1348 Laura muore però secondo Petrarca accetta questa morte come volontà di Dio perché la morte il più bel fior scelse. Nel trionfo della fama abbiamo poi il superamento della morte grazie alla fama e quindi ci sono tutta una serie di uomini famosi, esemplari. Però allo stesso tempo Petrarca ci fa notare perché la fama non è per sempre, anzi la fama è ineffabile ma è anche vana perché la fama termina, non rimane dopo la morte. Ciò che invece resta è l'eternità che si può raggiungere, si può comprendere in quanto l'eternità è attributo divino. Quindi nei trionfi che abbiamo detto è l'unica opera in volgare del Petrarca insieme al canzoniere, di fatto abbiamo una sorta di vita del Petrarca raccontato, cioè si passa dall'amore carnale che viene superato dalla pudicizia, dall'esperienza della morte di Laura, dalla fama perché Petrarca ha un grande desiderio di fama, viene anche incoronato, poeta laureato abbiamo detto dopo l'esame di Roberto D'Angio al Campidoglio, a Roma. Però poi il tempo dimostra che anche la fama svanisce e allora ciò che può rimanere è soltanto la divinità, il divino. Per quanto riguarda invece le opere latine possiamo dividerle grosso modo tra quelle religiose morali e quelle umanistiche. Sappiamo che Petrarca porta sempre con sé un libretto, le confessioni di Agostino di Ippona. Petrarca infatti si ispira ad Agostino, che ci ricorda che la verità sta nell'interiorità dell'uomo. Tra queste opere importanti dove emerge proprio la figura di Agostino c'è il Secretum, opera del 1347, dialogo del poeta con Agostino di Ippona. Questa opera è stata scritta durante il periodo della sua crisi religiosa quando era morto Roberto D'Angio, suo protettore, quando suo fratello Gerardo si era fatto monaco, mentre lui non era vocato da chissà quale chiamata divina nonostante avesse preso gli ordini minori e quando aveva avuto due figli e quindi forse qualche domandina se la faceva sulla sua carriera ecclesiastica. Quindi Petrarca dialoga con Agostino di Ippona. Il dialogo dura tre giorni e si svolge alla presenza della verità. Quest'opera è divisa in tre libri. Nel primo libro vediamo che c'è una sorta di diagnosi. L'infelicità di Petrarca è dovuta al fatto che è attaccato ai beni terreni. Nel secondo libro Agostino esamina i peccati di Petrarca che sarebbe afflitto dall'accidia. Nel terzo libro finalmente Agostino capisce quali sono le catene che imprigionano il poeta. L'amore per Laura è questo desiderio di gloria. Infatti nei trionfi vediamo come poi la fama, che è molto legata alla gloria, di fatto sia vana e che poi ciò che resti nell'eternità sia ben altro. E questa è una riflessione che potremmo anche estendere al pensiero attuale. Bisogna amare tutto il creato per amore del creatore e tu invece preso delle attrattive di una creatura lo hai amato come artefice di lei, quasi non avesse creato nulla di più bello, mentre la venusa corporea è l'ultima delle bellezze. Così dice Agostino a Petrarca che promette sarò presente a me stesso quanto potrò, raccoglierò gli sparsi frammenti della mia anima e diligentemente vigilerò su di me. E infatti anche l'amore di Petrarca per Laura cambierà nel tempo, anche dopo l'accettazione della sua morte. Nel 1346 aveva scritto il De Vita Solitaria dove esalta la solitudine, solitudine che può essere rallegrata dalla presenza dei libri, perché senza il conforto delle lettere la solitudine è esilio, è carcere, è tormento. Alletterato invece è patria, libertà, diletto, perché al tempo nella solitudine dedicarsi alle sue letture, ai suoi studi. Nello stesso anno del Secretum, 1347, scrive anche Il Deozio religioso, che è un'opera dedicata al fratello Gerardo, che abbiamo detto si fa monaco pochi anni prima. Ogni tanto però incontra Petrarca e si incontrano alla certosa di Montreux e in quest'opera proprio parla della scelta monacale del fratello animato da quella fede che lui non ha. L'ultima opera di cui possiamo parlare del Petrarca è il Remedis, che è una raccolta divisa in due libri dove Petrarca passa in rassegna i rimedi per la buona e per la cattiva sorte, la fortuna. E sono circa 300 dialoghi. Come dicevamo, questa divisione comunque è un po' arbitraria tra opere umanistiche e opere religioso-morali. Petrarca è un umanista e ha un'intensa attività filologica. Come vi anticipavo anche nel video su Petrarca, sulla sua biografia che vi lascio qui, la filologia è una scienza e di fatto si basa sulla ricostruzione del testo letterario che deve essere il più vicino possibile all'originale. Questa attività rinasce nel 400 e Petrarca è proprio un precursore, perché qui siamo ancora nella metà del 300. Compie tutta una serie di viaggi dove fruga nelle biblioteche, in cerca dei test. Abbiamo detto che trova la proarchia di Cicerone, abbiamo detto che trova le lettere, l'epistolario di Cicerone, abbiamo detto che colleziona codici che addirittura si racconta forse per leggenda, che muoia a Chino sul suo codice di Virgilio. Quindi fa delle scoperte di rilievo nell'ambito filologico e anche lui è un grande umanista. Possiamo dire che è un precursore dell'umanesimo. Tra le opere umanistiche inseriamo le raccolte epistolari, che sono 500 lettere in latino. Abbiamo detto due opere in volgare, il canzoniere e i trionfi. Sono concepite come delle opere letterarie, cioè lui queste lettere non le scrive per diletto, perché tiene tutte le copie. Quindi lui spedisce la lettera, poi tiene la copia, la corregge, la lima, la migliora e la tiene da parte. Quindi è un'opera letteraria, il suo epistolario. E rappresentano anche queste lettere in modo idealizzato la sua biografia. Abbiamo la divisione dell'epistolario in cinque raccolte. Ci sono le lettere familiari, che sono circa 350 epistole. Le epistole sine nomine. Non è indicato il nome del destinatario, spesso anche per questioni delicate. Le senili, che risalgono agli anni più tardi. Le varie, che sono state rintracciate, unite da amici collaboratori di Petrarca. E le epistole metriche in esametri. L'epistola più famosa del Petrarca, che tutti avrete letto, è l'epistola ai posteri, dove lui ci dice questa perla. Gloria Havana è cercare la fama unicamente nel luccicare delle parole. Infatti il 26 aprile 1336 scrive questa lettera a Dionigi di Borgo Sansepolcro e racconta proprio la salita al monte Ventoso insieme al fratello Gerardo. In cima a questo monte cosa potrà mai leggere? Le confessioni di Agostino di Pona, naturalmente. Altra opera importante, l'opera che gli vale la corona poetica, è il poema epico in esametri. L'Africa, che concepisce, abbiamo detto, in Valchiusa, rimane incompiuto, ci lavora tantissimo. Dovrebbe essere il poema che gli darà la fama. Parla della seconda guerra punica. Seconda guerra punica l'avete studiata in prima e in seconda superiore, 218, 202 avanti Cristo, la guerra dove abbiamo la figura di Annibale Barca e dove abbiamo anche le prodezze di Scipione l'Africano, colui appunto dell'elmo di Scipio se cinta la testa, proprio quel Scipione. Quindi il proposito di Petrarca in quest'opera è quella di esaltare la galoria romana con Scipione l'Africano e le sue gesta contro Annibale. Continuano gli esempi dei grandi uomini anche nel De Virs Illustribus, che è un'opera sempre incompiuta di biografie di personaggi illustri. Abbiamo Cesare, Catone, sono 36 biografie. Tra gli altri scritti umanistici che citiamo ci sono degli scritti in poesia, il Bucolicum Carmen, quindi una raccolta di 12 egloghe, e i salmi penitenziales, quindi dei salmi scritti durante la peste del 1348. Questa peste è molto importante nella letteratura italiana, sia per Petrarca ma soprattutto per il nostro Giovanni Boccaccio, di cui parleremo nelle prossime lezioni e del suo Decameron. Petrarca utilizza anche la scrittura però con intento polemico, che abbiamo detto scrive per far ritornare il Papa a Roma da Avignone, e scrive anche delle invettive. Per esempio l'invettiva contra medicum, un'invettiva contro uno dei medici del Papa Clemente, il Papa avignonese, francese. In questa invettiva sostiene l'ignoranza dei medici e l'inferiorità delle scienze rispetto alla letteratura. Infatti Petrarca scrive anche altre invettive, per esempio scrive un'invettiva contro un cardinale che lo critica, oppure scrive un'invettiva contro colui che maledisse l'Italia, quindi un frate, Jean de Hedin, che aveva difeso la sede papale ad Avignone. Sappiamo, lo ripeto di nuovo, così lo ricordiamo per bene, dal 1309 al 1377 c'è la cosiddetta cattività avignonese, la sede papale è ad Avignone e non più a Roma. Però Petrarca vorrebbe che la chiesa tornasse a Roma. Infine, nel De Sui Psyus et multorum ignorantia, replica quattro filosofi padovani che avevano osato definire lui, il grande Petrarca, buono ma ignorante. Con questa carrellata di opere, che vi serve per un ripasso naturalmente, vi lascio alla prossima lezione dedicata al canzoniere. Grazie a tutti.